Ciao a tutti ragazzi, sono Cielophysis e oggi siamo qui con questo nuovo video Ops, mi sono mosso Questo nuovo video di Sky... Cos'era? Skyrims, giusto Questa è che siamo qui con Jacopo e anche Anto Perché, eccolo qui, guardalo, lui è fortissimo, eh Ah, io sono più forte io, te lo posso dire Mmm, non credo Va bene, aspetta Hai accettato? Che arriviamo, ragazzi, quest'oggi stiamo Stiamo facendo un video speciale perché lui è un mio fan Ha detto che voglia assolutamente partecipare Accetta! E quindi ci facciamo un video insieme Ok, siamo nell'arena, ci stanno insintegrando Però c'erano tutte le cose, eh Mi prendo la Duke Aiuto Aiuto, aiuto, aiuto Aspetta, Anto, sei in un brutto momento Eccolo Anto, aiuto Ci sono dei tizi lì Aiuto 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 No Caspiterina, ma ci hanno disinteggato subito Allora invio il TPA io Aspetta TPA Se sopravvive Speriamo di sì Lui è forte Ah, invece io non Anche te Aspetta, eh Slashtel Grande Acevicchia Dove è che Ho prendo pugni Im, Anto Tutto toccato? Sì No, è morto Im, Anto Sono morto pure io Guarda lì che roba mi ha donato Anto La Duke Duke Lord Aspetta Aspetta Però non me la metto mica adesso Sì, non ho chiudato adesso uno Hai chiudato te? Sì Bravo Guarda cosa vede Cosa? Una chest plate Incantata con La split Ok Anto è felicissima anche di aver conosciuto Jacopo Vero, Jacopo, tu sei felice di aver conosciuto Anto? Sì Bene, di qualcosa Ciao essere mio amico Credo che dirà proprio di sì Un tizio, un tizio Mamma con l'arco Mamma mia, vai Questo video lo dedico a te Anto Si chiamerà Anto Guarda lì Guarda lì che Aspetta un po' di cose Tieni questo E questo Tieni questo, Jacopo Chi è che mi spara? È lui Scusa, ah ok Dice un altro Allora vuoi qualcos'altro? Ho delle frecce Tantissimi libri Non hai dei miei propri libri? Te ne do uno Aspetta No Che Vediamo Cos'è quello? È un libro Ti ho dato il primo che mi è capitato Minite È forte, no? È per la spada? Da fuoco? No È per l'armatura È da fuoco? Non funziona, va bene Sarebbe fare a raspetta se la fuoco Allora Dov'è il centro? Vorrei andare circa verso il centro Andiamo verso il centro Ah lì c'è una chest Vai guidaci te Io? No, lui Sai dove? Sì ma Non mi spuntare tutta l'immondizia No, è lui Adosso, adosso, adosso Ti prego Fuoco Ti piace Oh scusa Scusa, scusa Stai Ma tu ti piace C'è uno che god Tu ti trasporti da lui Ma ti disintegra Sei tu che mi hai chiesto? Sì Ah, allora ho accettato Ecco Grazie Mi ha salvato lo Stiamo inseguendo questo Lentamente Ma le Ma le c'è Un tizio C'è qualcosa di magico in mano Sve Chi è che l'ha ucciso? Vai, per di te vai Mi lascio le cose ricche Io ho 48 cactus Che caspita ci farò? C'è un tizio, c'è un tizio Vai Mi dai la roba Dove sei? Che succede? No, grazie Tieni un paio di cose Lo scudo me lo piglio io Ah Ok Perciò di fare Perfetto Ma mia che potenza Vedi che siamo fortissimi Quanto sono lui praticamente Però Non è vero Tu hai sempre il merito agli altri Però vabbè Beh lui è bravo Vabbè Perché noi facciamo schifo no? Beh Io più di lui sì Poi te non so che c'hai nelle ceste Ma non significa cosa c'è nelle ceste In questo che prima Ne ho killati tantissimi Vabbè Anche quelli Allora Lì c'è pieno di gente malvagia Che piove in continuazione Mi sa che siamo esattamente al centro Guarda come lo piglio E la notizia più brutta è che Anton non c'è Però state lontani Stiamo lontani dice Full iron Dov'è? Ok allora Quello di possiamo sconfiggerlo Vai No dai lo voglio chiedere io E ti aiuto no? Dov'è? Mettiti davanti Mi raccomando Stang Poi dovremmo farlo tipizzare da noi Ok siamo finiti nella zona d'ombra Non vedo un cavolo E non ho niente con cui vedere Tu vedi qualcosa? Sì Ok guardo dal tuo schermo Ok non capisco niente Ok abbiamo ritrovato Lanto Ok già Io ho ritrovato Lanto Però abbiamo perso Jacopo Arriva gente Arriva gente Arriva gente Aiuto 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 Ok allora Non ci capisco niente Chi è questo? E' Anto No non è Anto Ok sta scappando Mi sa che ha ucciso l'altro Bravo Grandissimo caspita Fuoco C'è fuggito No eccolo là Chi è? Dove? Ho finito l'Elderford Vabbè Ok ragazzi Direi che per oggi è tutto E' stato un video epico In compagnia di Anto Spero di farne Un altro Magari se vi skyriam Si appena posso Comunque per oggi è tutto Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao a tutti